C'è una frase molto bella di Sant'Agostino, è in latino però la traduco, NOS SUMUS TEMPORA, QUALES NOS SUMUS TAGLIA SUM TEMPORA, cioè siamo noi i responsabili dei tempi che viviamo, se non ti impegni poi non ti puoi lamentare che le cose vanno male. Luciano Spigliantini, avvocato e segretario provinciale di Arezzo del Partito Repubblicano Italiano, è uno dei tre aretini candidati per le prossime elezioni europee che si terranno l'8 e il 9 di giugno. Il suo partito è inserito in quota PRI nella lista della circoscrizione Centro Italia di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda. Il PRI ha un radicamento importante sulla costa toscana, ci racconta, ma anche a Carrara e Montecatini. Scopo di questo impegno politico dunque sarà anche portare consensi, anche dal territorio aretino, al Partito Repubblicano Italiano. Le mie possibilità di farcela sono ovviamente limitatissime, se non nulle. Però ho sempre pensato che un buon soldato non si domanda se vincerà o no la guerra, ma se la causa per la quale combatte è giusta oppure no. Perché questa candidatura? Essenzialmente per dare visibilità al Partito Repubblicano, che è un'offerta antica per una domanda che c'è ma che non sa di questa offerta politica. Molto interessante e se trovo un po' di persone disposte ad ascoltarmi, sono pronto a raccontare che cosa vuole il Partito Repubblicano, qual è la sua storia, ma soprattutto quali sono i suoi obiettivi. L'idea di Europa è molto precisa. Posso prendere un esempio tratto dall'etologia. Il falco, da che mondo è mondo, ama mangiare gli storni. Sono il pasto preferito del falco. Però gli storni non sono contenti di essere mangiati dal falco. E dunque col tempo hanno elaborato una loro strategia che è fatta di un volo compatto, quasi un globo, nel quale il falco non riesce ad entrare. Tutto risolto? No, perché il falco a sua volta non è contento di questa situazione. Il falco vuole mangiare. E a sua volta ha elaborato una controstrategia che è fatta di picchiate improvvise virate finché non c'è uno storno che perde la testa, esce dal gruppo e pensa di salvarsi da solo. Ecco, quella è la merenda del falco. Uscendo dall'allegoria possiamo pensare anche all'esperienza della Brexit. L'abbiamo visto tutti. È un esperimento che è fallito miseramente e pensiamo che la Gran Bretagna è comunque uno Stato legato al Commonwealth e dunque è una rete di relazioni enorme. E se non ce l'hanno fatta loro, figuriamoci l'Italia, che fine farebbe in poco tempo. Dobbiamo essere più capaci di stare in Europa. Faccio un esempio. Una volta c'era un fondo europeo, penso ci sia ancora, si chiamava FEOGA, che si occupa dell'agricoltura. FEOGA vuol dire orientamento e garanzia. Fondo europeo, orientamento e garanzia. La garanzia sarebbe la famosa PAC, quella che prendono gli agricoltori. Ma c'è la fase garanzia che noi non abbiamo mai saputo sfruttare bene perché quella per ammodernare gli impianti, per fare meglio le cose e quelle risorse sono sempre state distrutte. Dunque, quando diciamo in Europa noi prendiamo poco, vuol dire che non siamo capaci a prendere. Dovremmo essere meno pressappochisti. È come picchiare la televisione quando la nazionale perde. Più o meno è quello l'atteggiamento che abbiamo in genere. Che Europa allora vorrebbe il Partito Repubblicano? Il Partito Repubblicano, Mazzini, la Giovana Europa, non è solo un insieme di stati, è un'idea. È un'identità europea. Dunque, che passa attraverso anche le diversità delle lingue, delle espressioni culturali, del modo di vivere, che è ovviamente relativo, ma noi dobbiamo riuscire ad apprezzare queste diversità che sono un punto di forza, non di debolezza.